Ciao bambini! Oggi musica dal mondo! E con Gabriele, Beatrice, Liu e Marina andremo in Australia! Andiamo in Giappone! Con questo cani tradizionale, un canone, la canzone della rana, Kairou. Vediamo due versioni, l'abbiamo interpretata come dei nienti, prima a coppie e poi in cerchio, tenendo ritmicamente le tre parti del brano del canone, ma non la faremo a canone che si insegue, che si rincorre, ma suoneremo ritmicamente le tre parti all'unismo, quindi un gruppo suonerà, la prima parte, un gruppo la seconda, un gruppo la terza, ci sovrapponiamo, va bene? E allora? Seguiteci! Ciao! 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 Qua, 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 qua. Qua, 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 qua. Gua, qua, qua, qua. Kaeru no utaga. Qua, 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 qua. Gua, qua, qua. Kaeru no utaga. Kikoete kuru, qua, qua. Kaeru no utaga. Kikoete kuru yo. Gua, qua, qua, qua. Gero, 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 gua, gua, gua. Gua, qua, qua, qua. Gero, 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 gua, gua, gua. Quiero, 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 quiero gua, gua, gua Quiero, 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 quiero.